in questo numero del salus tg da fecondazione assistita a cure per l'autismo ecco i nuovi lea italiani mappano il dna del rene policistico un selfie per parti assistiti in africa e per aiutare le vittime del terremoto di amatrice abbiamo il lea il nuovo nomenclatore protesico e il nuovo piano nazionale vaccini è una buona giornata per milioni di italiani che avranno accesso a nuove terapie dopo il passaggio in parlamento e la pubblicazione in gazzetta ufficiale i nuovi livelli essenziali di assistenza saranno operativi entro l'anno a dirlo il ministro della salute beatrice lorenzin annunciando ieri l'approvazione del provvedimento in conferenza stato regioni i contenuti sono rimasti gli stessi è inclusa la fecondazione assistita omologa ed eterologa comprese le prestazioni che precedono l'accesso alle tecniche le cure per l'autismo per l'endometriosi 118 nuovi gruppi di malattie rare non ha più segreti il dna del rene policistico prima causa genetica di insufficienza renale attraverso il sequenziamento del genoma di oltre 400 pazienti in tutta italia gli scienziati dell'irx ospedale san raffaele di milano hanno costruito la prima mappa che mette in relazione il tipo di mutazione genetica oltre 700 quelle censite di cui più di 450 scoperte ex novo all'aggressività e alla precocità della malattia io nasco con te una campagna per sensibilizzare e raccogliere fondi per il parto assistito delle donne africane è l'iniziativa social di io donna e morellato a favore di medici con l'africa quam per ogni selfie postato su instagram e su twitter con la scritta io nasco con te morellato donerà un euro al quam per il suo impegno nell'assistenza alle donne che devono partorire a fronte dell'emergenza terremoto poi l'impegno raddoppia io donna e morellato devolveranno un'ulteriore somma di pari importo a sostegno delle popolazioni vittime del terremoto